il cartellino più 30 milioni di euro per tre anni e non è facile ammortizzare tutti i fiori e tutti i fiori tutti i fiori e tutti i fiori non è così facile per me un giocatore di 34 anni io non l'avrei preso in quella situazione lì la Juve se lo può permettere perché ripeto c'è la FCA alle spalle che può ricapitalizzare quindi non corre il rischio di fallire perché parliamoci chiaro io ho parlato tante volte con De Laurentiis ma ho sempre detto Paolo Paolo ci vuole tanto tempo per arrivare in alto per fare una società scusami ma ci vuole un attimo per saltare lui mi ha sempre detto io mi ricordo l'ho portato la prima volta a un'altra televisione importante all'epoca insomma proprio all'inizio che prese la presidenza e lui lo ripetì anche in quella trasmissione ci vuole tanto tempo per saltare ed eravamo all'inizio della sua era ci vuole tanto per arrivare ad alto livello anche economicamente come bilancio come stabilità di società ma basta una cazzata scusate il termine comprare ad esempio un giocatore di 34 anni con tutti quei soldi non avere un riscontro sportivo non avendo il riscontro sportivo si perde anche il riscontro economico scusami ma anche la l'unica non è